Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo Pippo Baudo. Si tratta di una delle personalità più note d'Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia, Pippo è entrato in breve tempo nel cuore degli italiani. Nella sua carriera c'è la conduzione di tantissimi programmi e anche del Festival di Sanremo. Una personalità poliedrica e versatile che ancora oggi viene amata e apprezzata dagli italiani. Alessandro, suo figlio, lo ha avuto dalla sua storia con Mirella Adinolfi. In un primo momento c'è stata una vigorosa battaglia per fare in modo che Pippo riconoscesse il figlio come suo, cosa che è poi avvenuta nel 1996. Da quel momento i due hanno cercato di riallineare i loro rapporti, riuscendoci appieno. Queste le parole del figlio, che ha deciso di abbandonare l'Australia per tornare in Italia. Papà ha 86 anni e non più un ragazzino. Ha bisogno di una mano in tutta la giornata. Ho deciso di lasciare l'Australia per arrivare a Terni, dove abita mio padre. Per me poi è un modo per dirgli, sono vicino a te, se hai bisogno chiama e corro, queste sono state le commoventi parole del figlio Alessandro nei confronti del padre.